La Proloquoterama presenta la casetta di Babbo Natale per il quarto anno, l'abbiamo fatta già nel 2019, poi si è spesa per il Covid. Quest'anno abbiamo avuto l'idea di presentare Babbo Natale con la casetta in Piazza Orsini tutti i pomeriggi dal 19 al 24. L'iniziativa è stata bellissima, più di mille bambini hanno partecipato con le loro letterine, in cambio hanno ricevuto dei doni da Babbo Natale qui nella casetta. Il ricavato verrà devoluto all'associazione Ragazzi Down di via di Azzatteramo, dove il presidente Agostinelli ci ha chiesto la collaborazione per presentare il loro calendario in modo da poter avere alcuni fondi necessari per i bambini che hanno tanta necessità. In cambio Babbo Natale sicuramente i bambini ve lo possono raccontare, una carotina per la renna prima che riparte, così porta doni anche agli altri bambini.